Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la pagina politica perché la segretaria del Partito Democratico Micaela Fanelli ha convocato per domani pomeriggio il tavolo del centro-sinistra escludendo Alternativa Popolare e Rialza Timolise. Il cambio di rotta sarebbe stato imposto da Matteo Renzi che cerca di riunificare la coalizione per non perdere fredda e compatta la risposta di Ulivo 2.0 che ha riproposto le sue condizioni per sedersi al tavolo, intanto prove di unità anche nel centro-destra, insomma la politica locale è in fermento. Intanto il sindaco di Riccia sarebbe pronta a mollare Paolo Frattura e allora ci dice tutto questo in apertura Giovanni Minicozzi. L'ordine di attenuare i toni sarebbe partito da Roma e così la segretaria del PD Michela Fanelli ha subito diramato la convocazione ai responsabili dei partiti e dei movimenti del centro-sinistra compresi quelli che hanno fondato Ulivo 2.0 ed escludendo Rialza Timolise e Alternativa Popolare. L'appuntamento è stato fissato per martedì alle 17.30 presso la sede del PD in via Ferrari a Campobasso, al momento però non è dato sapere se Ulivo 2.0 accetterà l'invito ma si sa per certo che saranno compatti o tutti o nessuno. D'altra parte, precisamente a Roma, Matteo Renzi rimasto con il cerino in mano dopo aver fatto scappare i buoi dalla stalla nel corso della direzione nazionale del suo partito, ha provato ad aprire il dialogo con i dissidenti interni e perfino con l'MDP facendo capire di essere pronto a tutto pur di ricostruire l'unità. Appare chiaro che una eventuale ricomposizione del centro-sinistra in Italia potrebbe condizionare anche le alleanze del PD molisano ma le condizioni imposte da tutti i soggetti che hanno dato vita all'Ulivo 2.0 sono precise e irreversibili. Nessuna alleanza con il centro-destra di Alfano, Nagni, Cotugno e Patriciello nonché la incandidabilità di Paolo Frattura al vertice della regione. Solo pochi giorni fa invece Michela Fanelli aveva riproposto la stessa alleanza del 2013, ovvero centro-sinistra, alternativa popolare e rialza di Molise. Dopo il K.O. messo a segno da Ruta, Leve e altri, con i primi 100 candidati pronti a sfidare Frattura, Fanelli cambierà idea? Al momento non si sa, ma secondo i soliti bene informati, la segretaria del PD, pur di essere eletta da qualche parte, regione o Parlamento, sarebbe pronta a tutto, anche a mollare il suo benefattore Paolo Frattura, nonostante l'incarico post-mortem politica da 400.000 euro nel nucleo di valutazione. Di certo il sindaco di Riccia i conti in tasca sa farli bene e capisce che qualsiasi altro presidente della regione metterebbe in discussione quella transazione e dunque, con un PD isolato dal centro-sinistra, lei resterebbe fuori dalle istituzioni e senza incarico. Per sua sfortuna si trova di fronte un Ulivo 2.0, più determinato che mai, compatto e pronto a farle pagare il costo di una gestione fallimentare del PD, sacrificato ai suoi voleri, appiattito sulle scelte del governatore e spaccato al suo interno. In politica però niente è impossibile e quindi l'alleanza di tutto il centro-sinistra alle condizioni imposte da Ruta e Leva potrebbe diventare l'estrema razio per non perdere le lesioni. Se così fosse Paolo Frattura dovrebbe rivedere le sue ambizioni personali facendo un passo indietro e ad Aldo Patriciello non resterebbe che rientrare nel centro-destra, confrontarsi con Michele Iorio, individuare insieme a lui un candidato presidente condiviso da tutta la coalizione. Risulta evidente che qualora permanessero divisioni nel centro-destra e nel centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle farebbe festa poiché potrebbe eleggere il presidente della regione e i quattro parlamentari che spettano al Molise. E l'Ulivo 2.0 si prepara alle elezioni regionali e lo fa con l'Assemblea dei Mille prevista per il 10 dicembre quando saranno ufficializzate le liste e saranno individuati i candidati alla presidenza della regione. Oggi a Campobasso la conferenza stampa di presentazione c'era per noi Anna Maria Di Matteo. Procede spedito il cammino dell'Ulivo 2.0 verso le elezioni regionali. Sono già 100 le persone che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi con l'Ulivo 2.0 o con le liste adesso collegate. C'è tempo tuttavia fino al 30 novembre per presentare le candidature. Un percorso che condurrà dritto l'Assemblea dei Mille come l'ha definita il senatore Roberto Ruta nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Campobasso. L'evento si svolgerà entro il 10 dicembre nel capologo di regione e in quell'occasione saranno presentate anche le candidature alla presidenza della regione. Per essere candidato alla guida della giunta regionale saranno sufficienti 10 nominativi. Sarà un voto libero e segreto per la scelta del candidato presidente, ha sottolineato Ruta nel corso dell'affollato incontro con i giornalisti al quale hanno partecipato anche molti candidati. Tanti nomi noti della politica locale ma tra loro non ci sono gli squali della politica o i furbissimi, ha aggiunto il senatore che ha presentato anche un'altra adesione all'Ulivo 2.0, quella del Movimento Democratica rappresentato dalla docente Adele Fraracci. Tra i possibili candidati esponenti del PD, sindaci come Tonino Lombardi di Torella del Sagno, Donato Pozzuto di Tufara, l'ex sindaco di Campobasso Augusto Massa, il segretario regionale della Wiltux Pasquale Guarracino, il consigliere regionale Francesco Totaro e ancora giornalisti, imprenditori, liberi, professionisti, insegnanti, operai. Una squadra che rappresenta la società molisana e le sue tante sfaccettature. Una regione fatta di persone impegnate in politica ma anche di gente che lavora, che ogni giorno tocca con mano i problemi che affliggono il Molise e che vogliono impegnarsi per cambiare le cose. Intanto sulla legge elettorale passa in commissione la proposta che prevede l'istituzione del Collegio Unico. Una decisione ha commentato Nicola Cavaliere del centrodestra che calpesta la democrazia. In commissione hanno votato a favore i consiglieri Monaco, Niro, Sabusco, Di Pietro e Dinunzio. Quest'ultimo ha rilevato Cavaliere, esponente del PD che a Termoli ha deciso per i tre collegi, come ha indicato anche la segreteria regionale qualche giorno fa. In consiglio ha concluso. Daremo battaglia per riaffermare le regole democratiche, dare voce e rappresentanza a tutti i cittadini molisani. Andiamo ora a Termoli perché il responsabile unico del procedimento, l'architetto Livio Mandrile, ha dato il suo definitivo via libera al progetto del tunnel che rivoluzionerà il centro di Termoli. La discussione si sposta ora in consiglio comunale che verrà convocato prima di Natale. Il servizio è di Manuela Iorio. Nuovo decisivo via libera al progetto da 19 milioni di euro che rivoluzionerà il centro di Termoli e che oltre al tunnel di collegamento tra Porto e Lungomare Nord, prevede anche la realizzazione di un auditorium, di un parcheggio sotterraneo e di una grande area pedonale tra via Roma e piazza Sant'Antonio che insieme a Pozzo Dolce diventerà una terrazza sul mare. Il responsabile unico del procedimento, l'architetto Livio Mandrile, dirigente comunale all'urbanistica, ha firmato la determina che prende atto di tutti i pareri e che concede e lascia passare per la tanto attesa discussione in consiglio comunale, sia del progetto che della variante al piano regolatore. Il via libera è arrivato a pochi giorni dalla conferenza cosiddetta decisoria che si è tenuta in regione a Campobasso e che ha visto rilasciare pareri favorevoli da tutti gli enti coinvolti. Parliamo dei vari settori della regione, dunque quello urbanistico, sismico, paesaggistico, ancora di enti come ARPA, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, ma anche Capitaneria e Vigili del Fuoco. Unico no, quello arrivato dalla Sovrintendenza e Beni Culturali del Molise. Un dissenso qualificato, così viene definito tecnicamente, ma che, stando a quanto scrive Mandrile, richiamando proprio una circolare del Ministero, non solo non esprime una posizione di diniego assoluto al progetto, carente di analitica osservazione, ma neppure il parere si propone come un diniego costruttivo-propositivo. L'architetto, dunque, considerando il regime di prevalenza dei sì incassati dal Comune di Termoli, ha firmato la determina. Ora la palla passa al consiglio che potrebbe esserci a breve, sicuramente prima di Natale. Cosa faranno i comitati nottun e l'ora? Quali carte si giocheranno? In ballo ci potrebbe essere anche un ricorso al TAR. L'agricoltura è il settore che cresce di più in Molise, lo ha dichiarato il governatore Frattura nel corso della giornata del ringraziamento organizzata dalla Col di Retti in Contrada Feudo a Campobasso. I bandi, ha precisato il presidente della regione, hanno raccolto il doppio delle candidature rispetto alla disponibilità finanziaria e in quattro anni sono state sostenute 138 nuove imprese avviate da giovani. 20 milioni impegnati per iniziative di aziende agricole già avviate, con un incremento dell'occupazione del 20%, a margine il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha risposto ai cittadini della Contrada che chiedono miglioramenti e l'allaccio delle fogne annunciando interventi a sostegno della zona periferica della città. E ora parliamo del presidio organizzato davanti alla prefettura di Campobasso dai sindaci e dagli abitanti del cratere sismico dicono no all'istituzione di un centro per l'accoglienza dei migranti nel villaggio di San Giuliano di Puglia. Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. Nuovo presidio dei sindaci e dei cittadini di Santa Croce di Maliano, Bonefro, Colletorto, Rotello e Montelongo davanti alla prefettura di Campobasso per ribadire il no deciso all'istituzione di una struttura per l'accoglienza dei profughi nel villaggio di San Giuliano di Puglia. C'è preoccupazione tra gli abitanti della zona del cratere sismico per la presenza di migranti dal punto di vista della sicurezza. Preoccupazioni condivise peraltro anche dall'Anci Molise. I sindaci della zona non ci stanno e chiedono l'intervento delle istituzioni. L'ennesima protesta che stiamo facendo da qui a tre anni fa, da quando abbiamo saputo la notizia di questa seconda sciagura che vogliono scaricare sull'area dei comuni del cratere. E quindi insediando nel villaggio di San Giuliano di Puglia 250 dicono loro. Però le notizie sono state sempre un po' frammentarie circa il numero perché si parlava di 500, poi 50 minori non accompagnati, poi 300 famiglie, poi 1000 e poi scopriamo che il villaggio verrà dimensionato per una capienza di 1200 posti letto. E questo ci preoccupa seriamente. Ecco, ma voi chiedete qualcosa in alternativa? Cioè, come vi ponete rispetto a questo progetto? Guardi, noi a Santa Croce, parlo del mio comune, abbiamo già attivato uno Sprar. Abbiamo delle famiglie di Rom che da sempre stazionano a Santa Croce, abbiamo sempre cercato di aiutarli, anche di farli studiare. Quindi abbiamo nel sangue, ci circola nelle vene il sangue della solidarietà. Poi abbiamo anche un riferimento politico a Santa Croce noto a tutti. Quindi per quanto riguarda la solidarietà non accettiamo lezioni. Se proprio dobbiamo ospitare, abbiamo proposto di spalmare i migranti su tutti i comuni della regione, sul modello Sprar praticamente, che si sta rivelando anche abbastanza funzionante. Ecco, il villaggio di San Giuliano a questo punto come potrebbe essere utilizzato? Il villaggio di San Giuliano aveva avuto già altre nobili richieste di destinazione, a cui il sindaco Barbieri ha risposto sempre picche. Non ho capito il perché, quello che vediamo è quello che poi ci riferite voi i mass media, i giornali e televisioni tutti i giorni, che attorno ai migranti ormai si è creato un grosso business con tutte le problematiche che sappiamo, quindi che è inutile ripetere. E noi che viviamo in quell'area già fortemente toccata dal terremoto, dove l'economia stenda a ripartire, dove l'agricoltura ormai viene abbandonata anche dai giovani, dove gli stessi giovani fuggono, i nostri figli ormai tutti all'estero, e qui ci preoccupiamo perché l'unica nota positiva è la nostra tranquillità, che con i migranti verrebbe messa in dubbio. Qua manca tutto, abbiamo solo la tranquillità, ci stanno togliendo pure quella. E sulla vicenda ha preso posizione anche l'ex presidente della regione Iorio, secondo il quale la scelta di insediare un centro di accoglienza nell'ex villaggio è assurda e dannosa per l'intera comunità, che ha aggiunto Michele Iorio, al contrario andrebbe incentivata a investire sul futuro. Mi unisco al grido d'allarme lanciato da quella parte, ha concluso Iorio e chiederò di sospendere la decisione di insediare il centro UB a San Giuliano di Puglia. Voltiamo pagina. Sale la febbre per gli acquisti di occasione nel cosiddetto venerdì nero, ultimo venerdì del mese da anni, appuntamento fisso per chi vuole fare affari a prezzi scontatissimi. Un'abitudine nata in America ma che sta prendendo piede anche in Italia. Ce ne parla Giovanni Di Tota. Una pratica che sta diventando sempre più un appuntamento fisso per i cacciatori di sconti e per gli appassionati degli acquisti online. Black Friday e Cyber Monday, i prossimi 24 e 27 novembre, partirà la caccia agli sconti da parte dei consumatori che metteranno a disposizione un budget medio di 300 euro. È il venerdì nero nel quale i negozi di Mezzomondo, soprattutto Asia e America, praticano sconti pazzeschi e abbattono i prezzi, tanto da costringere i consumatori ad appostarsi fin dalla notte precedente davanti alle saracinesche dei negozi. Il giorno è l'ultimo venerdì di novembre. I grandi magazzini e i centri commerciali vengono presi d'assalto da migliaia di persone e spesso si registrano anche incidenti, perresse e discussioni per accaparrarsi gli oggetti in svendita. Ora anche in Italia in molti hanno adottato questa pratica. Il termometro dell'affare cresce anche sul web quando l'ultimo lunedì del mese, il Cyber Monday appunto, accadrà più o meno la stessa cosa. E l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori anche in Molise si mobilita nella regione con una guida all'acquisto sicuro. In particolare, fanno sapere Roberto Tascini, presidente ADOC nazionale, e Nicola Criscuoli, presidente ADOC Molise, il Black Friday e il Cyber Monday sono diventati ormai degli appuntamenti fissi per i consumatori allettati dalla possibilità di effettuare acquisti con sconti che arrivano a superare anche l'80% per una media del 30%. Secondo un sondaggio ADOC, poi, sulle intenzioni di acquisto, il 30% circa dei consumatori vorrebbe effettuare acquisti durante queste due giornate, circa il 5% in più dello scorso anno. Tra i consigli ADOC, l'utilizzo di strumenti come comparatori e price tracker, nella guida anche il diritto di recesso, la tutela della privacy e i rischi della spedizione. Ma il popolo del web, rispetto alla clientela classica, sembra anche più scafato ed esperto. Molti siti sono già con i motori accesi, mentre da iPad, iPhone e smartphone, in milioni, sono già pronti a partire con un click per non lasciarsi sfuggire l'occasione dell'anno. Un ragazzo di 15 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto a Montenero di Bisaccia, mentre stava transitando in via Frentana all'interno del comune. Un'automobilista, secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo avrebbe urtato facendolo cadere sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri del posto. Il minore ha riportato diverse lesioni, ma comunque non gravi. L'ANAS intanto ricorda che a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile 2018 sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Adesso ci spostiamo a Isernia perché nella sede comunale di Palazzo San Francesco è stata inaugurata la mostra sui valori del Molise nella storia istituzionale dell'Italia repubblicana raccontati attraverso alcuni documenti dell'archivio storico del senatore Lello Lombardi. C'era per noi Sergio Di Vincenzo. Con l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni, di stimolarle alla partecipazione attiva nella vita della propria comunità, la fondazione Lello Lombardi ha voluto mettere a disposizione di tutti una parte dell'archivio storico di uno dei politici molisani più illuminati del dopoguerra. I documenti, ritagli di giornale e le foto proposti nella mostra inaugurata nella sede del comune di Isernia raccontano il ruolo giocato dal Molise nella storia istituzionale dell'Italia repubblicana. L'Italia repubblicana non è nata solamente da contrapposizioni di fazioni ma è nata dai valori e il Molise ha contribuito molto. Ci sono stati anche dei contributi del Molise per la crescita dell'Europa. I nostri parlamentari Camposarcuno e Ciampitti erano nella Costituente ma facevano anche viaggi per rappresentare le esigenze del Molise in Europa e Lello Lombardi era direttore di un giornale Libertas che nel 1946 coinvolgeva nella partecipazione dei giovani alla acquisizione di valori ispiratori per la nascita proprio del Molise. Nell'aula consigliare di Palazzo San Francesco grazie anche alla proiezione di un video è stato tracciato un ricordo del senatore ed ex sottosegretario Lello Lombardi con particolare riferimento al suo impegno e al suo contributo decisivo nella crescita non solo del Molise ma di tutto il meridione. È stato un personaggio animatore della vicenda sociale del sud perché è stato un grande combattente per l'autonomia dei territori del sud quindi per la rinascita del comune per la provincia e via via fino al 70 per la nascita della regione. Un uomo di cultura è un uomo un grande democratico ed è una persona che ha animato soprattutto i giovani verso prospettive sociali avanzate. Dopo l'anteprima di Palazzo San Francesco la mostra sarà ospitata nei comuni che hanno affiancato la fondazione nell'iniziativa e negli istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta. Da questa esperienza che vogliamo partire per cercare di riavvicinare un po' soprattutto le più giovani generazioni a quello che è il senso delle istituzioni quindi fare una lezione di cittadinanza attraverso un'esperienza viva concreta di un uomo che soprattutto ha creduto nella scuola nel valore dell'istruzione ricordiamo il suo contributo per la nascita decisivo per la nascita dell'università qui in Molise. È stata scoperta a Montaquila con una cerimonia pubblica la lapide in ricordo di un soldato molisano morto nel 43 nella campagna di Russia il servizio di Michele D'Alessio. Ricordato a maesseria la corte di Montaquila Luigi Ricci medaglia di bronzo al valore militare deceduto in Russia a 24 anni durante il secondo conflitto montiale. La motivazione di tale riconoscimento era sconosciuto ed è stato Fiorentino Castalti comandante della locale polizia urbana su segnalazione di un nipote a prendere i contatti con il ministero che prontamente l'ha fornita. La targa in suo onore così recita servente al pezzo con coraggio si portava allo scoperto per meglio agire con le proprie armi contro un carro armato nemico dopo aver inflitto perditi all'avversario cadeva eroicamente falciato da una raffica di mitragliatrice già distintosi in precedenti fatti d'arme fronte russo 24 gennaio 43 Mi è passato un documento per le mani del ministero della difesa che citava la morte di questo militare ma soprattutto quello che mi ha colpito è stata la frase la frase che io poi ho fatto scolpire nel bronzo della targa che citava l'atto eroico di questo ragazzo all'ora di 24 anni quando ho visto questa frase con questa perdita attuale dei valori che ci sono la prima cosa che ho pensato questa cosa la devo far leggere ai ragazzi delle scuole devono saperlo tutti che cosa ha fatto questo giovane di quell'epoca insomma e quindi mi sono attivato ho avuto il benestare del comune di uno sponsor ho fatto fare questa targa da una fonderia di Napoli ho fatto montare su un telaio in ferro qua sulla piazza di Masseria la Corte dove tra l'altro mancava un riconoscimento un po' per tutti i militari morti nelle varie guerre e penso di aver fatto una cosa gradita anche alla popolazione di questo posto che molti sono parenti di questo eroe Ricci Luigi medaglia di bronzo a loro militare deceduto nella campagna dei russi alla benedizione dell'artistica targa in bronzo presenti rappresentanze degli alpini dei bersaglieri una scolaresca il comando provinciale dei carabinieri tanti cittadini ed ovviamente il sindaco Franco Rossi riconoscimento posto ma non per colpa nostra perché ne abbiamo avuto notizia qualche mese fa e quindi ci siamo attivati per scoprire una labbra in ricordo di questo eroe che è morto in Russia con una labbra e con una scritta riconosciuta dal ministerio questi momenti dovrebbero servire per diventare un po' migliori tutti quanti sono momenti di riflessione che fanno bene tutti a giovani e vecchi In occasione della giornata mondiale del diabete prevista per domani la regione molise annuncia un'azione di potenziamento delle attività di analisi e di controllo dei pazienti la campagna di prevenzione consisterà nella possibilità da parte di chiunque di misurare il glucosio nel sangue e verrà fatta in collaborazione con farmacie medici di base pediatri e personale parasanitario l'inizio è previsto per la fine di quest'anno e durerà due mesi e restiamo in tema salute conoscere la menopausa i sintomi saperla affrontare se ne è parlato a Termoli in un convegno organizzato dalla Lilt nell'ambito del mese di prevenzione che continuerà al Santimoteo anche a novembre sentiamo ancora Manuela Iorio prima o poi ogni donna attraversa la fase della menopausa un processo assolutamente naturale e come tale va vissuto alimentazione e stile di vita in genere possono accompagnare questo momento e ridurre i sintomi ma come affrontare la menopausa se ne è parlato a Termoli in un convegno organizzato dalla Lilt e dove esperti hanno dato consigli e raccomandazioni per affrontare al meglio il periodo della menopausa i disturbi possono coinvolgere vari aspetti della donna in menopausa dal metabolismo allo stato psicologico allo stato di salute fisico e non dobbiamo sempre trascurare quella che deve essere la prevenzione anche in questa fascia d'età i disturbi metabolici partono dalla carenza degli estrogeni che sono poi il fulcro di tutto quello che accade nella donna in questa fase diciamo una seconda vita che loro affrontano da parte di alcuni vissuta come un vero problema ma da parte di altre volte come liberazione invece di uno stato precedente non sempre accettato e gradito i sintomi della menopausa si possono anche ridurre a tavola mangiando alimenti ricchi di calcio e fitoestrogeni soprattutto in soia semi di lino e poi per quanto riguarda il calcio ovviamente latte derivati ma anche come vedremo tantissimi altri alimenti vegetali come legumi e frutta secca il convegno è stato inserito nell'ambito del mese della prevenzione contro i tumori al seno che ha visto gli ambulatori del Santimoteo aperti per visite gratuite una richiesta molto elevata da parte dell'utenza tanto che si è deciso di prolungare l'iniziativa una richiesta estremamente alta rispetto agli altri anni non avevamo il tempo di rispondere a tutte le telefonate tante che abbiamo dovuto prolungare a novembre abbiamo raggiunto dei picchi di visite che siamo ormai a 300 prenotazioni cosa mai successa prima e devo ringraziare tutti i colleghi dal dottor Molinari al dottor Della Valle al dottor De Santis al dottor Bettini che hanno alla dottoressa Esposita hanno partecipato con me a soddisfare queste esigenze e si è svolta a Civitanova del Sannio la decima edizione di San Martino nelle vecchie cantine un percorso tra vini molisani e vini di fuori regione accompagnati dai sapori tipici della cucina locale l'evento si è svolto nella cornice suggestiva dell'antico borgo Civitanovese ci racconta com'è andata Valeria Farina se a San Martino ogni mosto diventa vino per rimanere fedeli al proverbio a Civitanova del Sannio cantine e vecchie botteghe sono state aperte per accogliere le migliaia di turisti arrivati in paese per la decima edizione di San Martino nelle vecchie cantine un percorso all'insegna dei prodotti locali della valorizzazione dell'antico borgo tra vicoli e scenari suggestivi c'è un paese intero che lavora e collabora per accogliere i tanti stranieri tra virgolette i tanti turisti che arrivano per questa giornata quindi è un intero paese che lavora e collabora per far vedere quanto di bello abbiamo un itinerario tra le eccellenze del Molise dal tartufo allo spezzatino di cinghiale dalla polenta fino alle polpette di carne e quelle cacheove immancabili gli gnocchi civitanovesi il formaggio caprino le zuppe e tante altre bontà dieci cantine in cui con l'aiuto del sommelier si potevano gustare vini molisani e di fuori regione l'associazione Civitanovesi nel mondo che ha organizzato l'iniziativa in questo modo ha voluto creare un connubio tra tradizione e territorio gustoso e ricercato sì anche quest'anno è stato un ottimo successo siamo molto contenti tante le persone tante le persone da fuori questo è importante da dire perché il boom di presenze anche da fuori regione di persone che hanno passato il weekend venerdì sabato domenica Civitanova e questo ci fa molto piacere perché nel mese di novembre portare persone ad un paesino di montagna non è una scommessa da poco e sposando questo accoppiamento che oramai è vincente da dieci anni di vino e quindi buona cucina un po' di di ospitalità e sembra che disponda sempre meglio Novità di quest'anno è stato il brindisi della pace sulle scalinate della chiesa di San Silvestro Papa per questo particolare i cincin sono state stappate bottiglie provenienti da Betlemme a simbolo di quei valori di condivisione di pace e di unione tra i popoli ma capita proprio nel giorno di San Martino perché poi tutte le ricorrenze i nostri contadini le legavano alle feste dei Santi e allora hanno legato questo momento del vino proprio alla festa di San Martino insomma siamo ben felici di questo perché è bene ed è bello che le condividiamo queste cose molto belle che ci sono nelle nostre terre il territorio la tavola e lo stare insieme sono state queste le chiavi del successo della decima edizione di San Martino nelle vecchie cantine a Civitanova del Sagno e con San Martino nelle vecchie cantine la manifestazione di Civitanova del Sagno termina l'ultima edizione del nostro telegiornale ma c'è prima un appello per tre cagnolini li dovremmo vedere eccoli qui nella foto sono stati trovati da una famiglia di Colle Torto hanno quattro mesi cercano qualcuno che possa prendersi cura di loro come sempre per chi fosse interessato può rivolgersi alla nostra redazione il telegiornale termina qui vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte